3 anni, ovvero se tu hai un quadro generale di quello che sta succedendo nel mondo, a un certo punto fai delle scelte, delle decisioni, degli investimenti che li fai a cuor leggero perché dici tanto ho capito dove sta andando, se invece non hai riflettuto su certe cose o magari parlato con abbastanza persone come ho fatto io e quindi io vado veloce perché? perché chiedo, ho il coraggio di chiedere a chi sta più avanti e loro mi insegnano, guarda che sta andando lì, questa cosa lasciala stare, vai su questo binario e hai un quadro complessivo di dove devi andare e ci vai in maniera più tranquilla, non sei bloccato, paralizzato, le persone che invece hanno meno informazioni sono più paralizzate, più bloccate e corrono il rischio di andare verso l'estinzione di massa fondamentalmente, vanno verso l'estinzione di massa perché o non cercano le informazioni, sono poco curiose, oppure le informazioni che hanno sono sbagliate, oppure sono paralizzate dalla paura perché dicono ormai sta andando verso la pensione, quanti fanno questo discorso, ormai mi faccio gli ultimi 5 anni in discesa, la curiosità gli è sparita, gli è passata e quelle sono persone che comunque si estinguono. Il mondo va rapido grazie a mio parere a internet prima di tutto, internet è il fattore fondamentale che significa appunto informazione, rete, poi diciamo che attorno a internet si sono sviluppate delle altre cose come per esempio i social che permettono di entrare in connessione proprio e creare del networking con i professionisti e a parte questo c'è tutta un'area ancora più ampia di amplificazione che sono i contenuti, i contenuti per esempio noi com'è che attraiamo i cervelli migliori, io riesco a fare per esempio networking con le migliori persone attraverso internet grazie a per esempio i gruppi Facebook oppure facendo vedere le cose, io faccio vedere e vengo automaticamente trovato dai cervelli. facciamo sviluppo innovativo di nuovi protocolli, ma le facciamo vedere, non le teniamo nel cassetto, facendole vedere persone come Livio, Rakovizza arrivano poi da noi a lavorare, da Londra oppure nascono delle amicizie, nascono dei gruppi, nascono dei gruppi di lavoro su internet, era difficile magari trovare e conoscere tutte queste persone passeggiando sul marciapiede a Ismail, quindi capite che è importante questa piazza ma è importante la strategia con cui uno entra in contatto con le persone giuste, il miglior modo è non andarle a cercare ma mettersi lì così e dire a me piace, mi piacciono la moto famosa, Harley Davidson, me la metto in copertina, è facile che attraggo anche altri motociclisti che gli piacciono le Harley Davidson e lì si crea il gruppo degli appassionati ed è quello che un pochino questi anni è cresciuto attorno a questo policlinico, sono nate tante connessioni a livello mondiale di persone appassionate del digitale, della tecnologia, dell'innovazione, dei nuovi progetti e alcune di queste appunto sono arrivate fino a qua in Moldavia. Ora con questi gruppi che trovate anche su Facebook stiamo lanciando contest, facciamo per esempio abbiamo fatto ieri un altro contest dove digitalizziamo un paziente, lo mettiamo online e chiediamo agli altri gruppi che sono in giro nel mondo di realizzare il piano di cura, ok? Loro realizzano il piano di cura e poi abbiamo noi 6-7 varianti di quella riabilitazione. Quella riabilitazione poi quella che viene validata più da tutti la andiamo alla fine a stampare e lo possiamo fare questo per i denti, per gli impianti, lo possiamo fare per piani di cura provvisori e questo è praticamente un nuovo modo di collaborare alla stesura del progetto. Poi la produzione che me la fa Francesco piuttosto che Luca ha sempre devi usare che ne so questo robot. Ciò che conta non è tanto il robot ma quanto la selezione del materiale che ho fatto e il progetto che ho messo dentro.